Siamo all'equipa, ed un bambino, ha appena detto al papà, di una francese probabilmente, che i turisti sono bianchi. Quanto piace l'equipa? Siamo più veloci. Lasciamo le penne. Di Arequipa facciamo solo questo video. Perché ricordi che ho di Arequipa? Sono di una foto scattata nella piazza, da un fotografo forse professionista. Ha messo 20 minuti. Questo albero piccolo che vedete è l'albero della pace. Non è male questa piazza. La cattedrale di Arequipa è qualcosa di spettacolare. Però dentro è quello che è. Un po' di ziotti che sembrano i nazisti dei Blues Brothers. Vedete? che so qualcosa di spettacolare. Però, non so per quale motivo. Ma sento che qui ho paura. La cattedrale di Aresquipa E ridiamo un video di 3 minuti. Vediamo che lì all'angolo è un perro caliente. Oh, ci sta un predicatore, grandissima questa torna Oggi facciamo un giretto, ciao a tutti da l'equipe